Bubi, sciccici! Scusiamo ai miei telefoni Allora, guardate Arriva Noi, guardate Scusiamo 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 ... ... ... ... ... ... ... Devo fare una cosa inoltre, che l'altro non va bene, ma c'è un pane o no? Non mi faccio il pane, ma c'è un pane o no? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.